Buonasera, sono Massimo Canetta, il docente di Tarot, Tarotchi Introspettivi, e anche questo mese affrontiamo la piramide del mese per andare ad analizzare le energie che ruotano intorno al mese di maggio. È un tipo di lettura che potete fare anche voi a casa, seguendo un po' lo schema di questa lettura. Quindi, la lettura del mese di maggio come funziona? Funziona che estrarremo una carta, che sarà la carta del mese, che rappresenterà le energie che ruotano intorno al mese. Poi ci sarà una carta che indicherà come finora mi sono posto, quindi come sono arrivato a questo mese, come lo sto preparando, e invece come devo rapportarmi per arrivare preparato ad affrontare il mese. Potrei trovare degli ostacoli sul mio cammino, così come potrei trovare degli alleati. Quindi cosa potrebbe intralciarmi e cosa invece potrebbe aiutarmi. Alla fine la chiusura, una chiave di lettura, che è la chiusura della stesa, perché ci rappresenterà un po' la verifica di tutto quello che abbiamo visto finora. Perché questo mese è rappresentato da queste energie? Come possiamo leggerlo in definitiva? Quindi possiamo cominciare con l'estrazione delle carte partendo dalla carta del mese di maggio. Ecco, la carta del mese di maggio è la forza, l'arcano 11. L'arcano che rappresenta la determinazione, lo sforzo di affrontare determinate situazioni con una carica energetica potente. Siamo nel grado 1, ma nel livello superiore, quindi vuol dire che stiamo per intraprendere un qualcosa che sta partendo, ma con una consapevolezza decisamente maggiore. Stiamo per prendere delle decisioni magari fondamentali, quindi una forte determinazione e magari la volontà anche di o dire per la prima volta determinate cose o evitare assolutamente di dire quello che stiamo pensando. Fino ad ora ci siamo un po' predisposti a fuggire da queste responsabilità, a fuggire da questa necessità di agire realmente. Quindi forse anche spinti da qualcuno non abbiamo mai avuto il coraggio di essere centrati nell'affrontare determinate problematiche. Quindi magari abbiamo anche dato quell'impressione di essere disinteressati o comunque molto superficiali, con una voglia di divertirsi, di partire e non di affrontare realmente problema. Invece forse l'affrontare nel profondo determinate scelte, anche se dolorose, perché magari ci portano a separazioni, ci portano a dover chiudere magari rapporti con qualcuno, ma è forse il mese in cui dobbiamo affrontare le nostre emozioni, andare a scavare nel profondo e non fuggire, ma andare a capire esattamente cosa emerge dalla nostra profondità d'animo. Attenzione però magari a finti maestri, a persone che vogliono a tutti i costi darci dei consigli e indicarci una strada. Forse non è quella la voce da ascoltare. Magari potrebbe metterci più in difficoltà che darci una mano. Invece magari ascoltiamo le persone che ci stanno vicino, le persone che ci amano, gli amici, la famiglia, persone comunque vicine a noi che sanno cosa noi vogliamo. È un momento di scelte, abbiamo detto determinazione, non più fuggire ma andare nel profondo. Quindi ecco che sono scelte importanti e dobbiamo assolutamente affrontarle. È forse arrivato il momento di chiudere un determinato ciclo della nostra vita. Chiudiamolo. Anche se fa paura, anche se probabilmente nulla sarà più come prima, è arrivato il momento di chiudere. Chiudere una porta significa comunque far girare la ruota e magari girerà dalla parte della fortuna e ci porterà a iniziare un nuovo cammino. La carta numero 10, l'arcano 10, la ruota della fortuna, girando passa all'arcano 11 che guarda caso è la carta del mese. Quindi il cerchio si chiude. Dobbiamo agire. Buona vita a tutti.